Ha lavorato con Paco De Lucia, ha studiato con passione e dedizione ed è andato fino in Andalusia per vivere e respirare quella che più che una semplice musica è uno stile di vita. Il flamenco è nel sangue di Matteo D'Agostino, chitarrista e virtuoso di questo affascinante genere musicale poco diffuso in Italia, prossimo al debutto del suo primo disco con brani originali interamente composti da lui. Bisogna imparare il linguaggio culturale loro, è come se uno deve imparare il cinese, è una lingua e ci vuole molto tempo, molta passione per impararla. Io sono stato in Spagna tante volte in Andalusia per approfondire il dialetto musicale flamenco e ho vissuto lì e devo dire che è una cultura molto appassionante e musicalmente molto complessa. Cifra stilistica di D'Agostino, che suona accompagnato da Luca Caponi al Cajon Set, la versatilità, la tecnica e la capacità di fondere diversi stili, mantenendo una forte personalità artistica. Tanti gli stati d'animo che scorrono dentro, ascoltando una musica che unisce la nostalgia, l'allegria, in cui si sente l'orgoglio e il coraggio di un popolo con una forte identità. Diciamo che il flamenco nasce dalle influenze arabe, dalle influenze sefardite, dalle influenze indiane, dall'India, sono immigrati in Europa, avendo due traiettorie differenti dall'Africa e dal nord Europa, quindi dai paesi dell'est. Passando in questi paesi hanno assorbito le influenze musicali dei vari paesi, arrivando in Spagna, diventando stanziali, si sono mischiate con le tradizioni autoctone della Spagna, dell'Andalusia e quindi è diventato un croce incredibile di culture. Fateci sentire, ecco, per esempio un accenno, se si può, che so, della rumba. In attesa di presentare in anteprima il suo disco al Teatro del Lido di Ostia il prossimo 7 aprile, D'Agostino in tournè con lo spettacolo Achime Enquentro, scritto interamente da lui, che costituisce un punto d'incontro tra tutte le influenze musicali della sua lunga carriera. Achime Enquentro vuol dire, eccomi qui, vuol dire, questo sono io, questo sono e vi presento come sono senza filtri. Questa è la... che, diciamo, è un'ottima indicazione anche per la vita in generale e io l'ho scritto, ho dato questo titolo appunto perché nella vita fossi influenzato da questo pensiero. Comunque, è il, diciamo, il progetto musicale dove confluiscono molte delle influenze che ho avuto, influenze musicali che ho avuto negli anni, ho suonato dal blues al jazz e poi sono arrivato al flamenco. Quindi quando compongo naturalmente escono fuori altri linguaggi che si mischiano con quello del flamengo.